Cambia nome e aspetto il sito internet del Consiglio regionale del Piemonte che all'insegna della trasparenza mette a disposizione dei cittadini le presenze dei consiglieri alle attività d'aula, i dati su indennità e stipendio dei dirigenti e le assenze del personale. Le novità della pagina che risponde al nuovo indirizzo www.cr.piemonte.it sono state presentate stamane dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Valerio Cattaneo. Per stabilire un dialogo più diretto con i cittadini, il sito consente di collegarsi al canale Twitter durante le sedute con la possibilità di ottenere brevi informazioni sull'andamento del dibattito. Ogni notizia pubblicata potrà inoltre essere commentata sui principali social network. Migliora anche la sezione multimedia con gallerie fotografiche e video periodicamente aggiornati. Così ad esempio, oltre a vedere in diretta le sedute dell'aula, si potrà acquisire anche la registrazione dei singoli interventi. Pensiamo che oltre la metà dei piemontesi naviga ormai su internet, si stima il 53,5% delle famiglie. Credo che sia veramente un modo, così come abbiamo fatto all'inizio di aprire il Palazzo Lascaris e i cittadini, di portare il Palazzo Lascaris e l'attività dei consiglieri Palazzo Lascaris all'interno delle case dei piemontesi. Un obiettivo ambizioso ma su cui teniamo molto. Una sezione speciale dedicata al Piemonte. Il concorso nazionale Disegni al tuo cavallo, che mette in gara i disegni e la creatività dei bambini dai 7 ai 14 anni per far conoscere loro un animale amato ma sempre più lontano, apre la nostra regione con un premio speciale in onore di un territorio da sempre legato al cavallo. Il concorso nasce per far ricordare il cavallo ai bambini fino ai 14 anni perché ci siamo resi conto che tutti i bambini amano il cavallo ma non hanno più occasioni di vederlo, forse se ne sono dimenticati perché vive lontano dalla città, quindi è nato questo concorso e la partecipazione è straordinaria e proprio perché il Piemonte è una grande terra di cavalli, qui vive Varenne, qui è la quinta regione italiana per numero di capi e per i centri ipici d'eccellenza abbiamo pensato di creare il premio speciale Piemonte riservato alle bambine, bambini, insegnanti, scuole del Piemonte che in questo modo partecipano sia al concorso nazionale sia al premio speciale. Nella quarta edizione di questo premio i temi in concorso sono sei e spaziano dal realismo del cavallo in battaglia al cavallo come filo conduttore dell'Unità d'Italia oppure ancora questo animale nella fantasia di grandi e piccini. Sul sito disegnaltuocavallo.it tutte le informazioni, il bando di partecipazione al concorso, ogni partecipante dovrà presentarsi a titolo personale, non sono ammessi i lavori di gruppo ma potrà inviare anche più di un disegno. Grazie a tutti.